Piano strutturale del Comune di Civitella in Valdichiana, lo strumento è stato riadottato dal Comune e adesso sono aperti i termini per le osservazioni. Sì, un piano strutturale che era stato adottato in prima battuta giugno 2013, che poi questa amministrazione ha deciso di sospendere in virtù delle novità sulla revisione della vecchia legge urbanistica numero 1 della regione toscana, che nel frattempo aveva aperto una sua revisione. Tale legge è stata definitivamente approvata dalla regione a novembre 2014, quindi da quel momento il Comune si è subito riattivato per conformare il proprio piano a quelle che erano le ultime normative della regione toscana. Lo abbiamo fatto in modo molto veloce, tanto che il 9 luglio, nella seduta del Consiglio del 9 luglio, siamo andati a una riadozione, conformando quel piano a quelle che erano le richieste e le nuove normative della 65 e così permettendo di riaprire i termini di osservazione, termini che scadranno il 19 settembre, entro il quale tutti i cittadini interessati potranno appunto presentare al Comune i propri contributi e le proprie osservazioni. Un piano strutturale che quindi disegna le strategie di sviluppo di questo territorio per i prossimi 10-15 anni con una particolare attenzione all'utilizzo di suolo. La grande novità è sicuramente la novità della legge urbanistica regionale che è la perimetrazione delle aree urbanizzate, quindi questa è la grande novità del nuovo piano. E un altro elemento saliente che mi piace ricordare è un'attenzione a una rivisitazione di tutta la mobilità del territorio, cercando con l'obiettivo di poter liberare i centri abitati da quello che è un traffico veicolare pesante e quindi costituire una mobilità appunto per il traffico pesante al di fuori dei centri abitati e rendere più vivibili le nostre piccole comunità. Ecco, dopo questo periodo di osservazioni si andrà ovviamente all'esame delle stesse e presumibilmente quando secondo lei il piano potrà andare in consiglio comunale? Sì, abbiamo un cronoprogramma ben definito e il 19 settembre si chiudono le osservazioni, da quel giorno dopo saremo al lavoro con l'ufficio del piano per la valutazione delle osservazioni e contiamo di portarlo in definitiva approvazione tra dicembre e gennaio, tra dicembre 2015 e gennaio 2016. Grazie.